Spuntano nuove indiscrezioni sul caso Ilenia Carrisi. Figlia dei più noti genitori. Albano e Romina Power. Le parole di una suora. Son passati tanti anni dallo smarrimento definitivo di Ilenia Carrisi. Figlia di un'ex amatissima coppia di cantanti dello spettacolo Sanremese. Albano e Romina Power. Da allora i due artisti più famosi e affiatati dell'epoca hanno intrapreso due strade differenti. A causa dei diversi punti di vista. Tra questi spicca l'argomento Ilenia. Personalità introversa e non incline ai. Sussulti. Che si verificano nel mondo dello spettacolo. Il padre avrebbe voluto che si affermasse in tal senso. Per avere una visibilità tutta sua. Anche in onore delle esperienze in tv della famiglia. Ma la fermezza e la decisione della ragazza prevalzero sui consigli dei genitori e da lì a poco finì per separarsi definitivamente dal nucleo biologico. L'allontanamento di Ilenia ha provocato un terremoto. In casa Carrisi. Che ha sciolto persino i sentimenti d'amore tra la coppia più. Scintillante. Del momento. Il padre ad un certo punto l'ha creduta defunta. Trasportata lungo le sponde del fiume Mississippi. A New Orleans. Evie era fuggita. Vittima di assunzione di stupefacenti. Mentre mamma Romina ha sempre sperato che il suo grazioso volto fosse ancora in vita. Da qualche parte del mondo. Ilenia Carrisi. Nuove indiscrezioni sul presunto ritrovamento. Parole di speranza. L'assenteismo. Di Ilenia Carrisi dalla famiglia di Cellino San Marco dura ormai dal lontanissimo 1994. Quando la diretta interessata fece perno sulla decisione di affermarsi lontano dal territorio di nascita. Tuttavia. Lo smarrimento della figlia di Albano e Romina Power ha scatenato una valanga. Di pregiudizi. Tra i componenti della famiglia. Mentre il papà si era convinto della definitiva scomparsa della figlia dalla vita terrena. Così non è stato per Romina che in compagnia del figlio Iari si è messa alla ricerca di Ilenia. In giro per il mondo. Secondo le ultime indiscrezioni del settimanale. Freizeit Review. Sembra che il copione della storia sia cambiato. Donando alla famiglia. Una. Fiammella. Di speranza. Per un ritrovamento definitivo. A nutrire ottimismo ci ha pensato la suora di un convento in Arizona. Dove a detta sua. Ilenia si sarebbe rifugiata da occhi indiscreti. Ad un certo punto della sua vita. Secondo la tesimonianza ecclesiastica. Ilenia avrebbe ricoperto in quel luogo. Il ruolo di giardiniera della struttura. Chiudendosi spesso nella sua introspezione. Uno dei frati del convento avrebbe segnalato la presenza sospetta. Fino ad allertare la polizia. All'arrivo di quest'ultima. La ragazza avrebbe fatto in tempo a fare le valigie ed imbattersi in una nuova avventura di emigrazione. La suora era la persona con la quale. La presunta Lady Carrisi si confidava spesso. E proprio in occasione del suo nuovo status di fuggitiva. Le avrebbe intimato di un nuovo trasferimento in Asia. Anche se non ne sono troppo sicura. Conclude la sorella. Ponendo agli detti. Un doveroso punto interrogativo. Un doveroso punto interrogativo.